almeno uno manca il derby il derby il derby domani ma cosa succede ho letto cosa succedendo mazzarri clop ho sentito ma clop ancora fa l'allenatore ho sentito si parla già di allenatore qua cosa succedendo vi ricordate per quanto tempo ci avete preso per il chap cinesi 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 salite con i cinesi non devi ridere prima ma caco non devi ridere prima capito io ti auguro cardinale e i bravi i movici tutta la vita per tutta la durata del tuo milan e voglio vedere generazioni di macachi piangere generazioni 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 piangere capito hai capito non so nell'inter per quanto tempo ancora resta competitiva non lo so e non si saprà mai ma tu devi imparare a chiacchierare meno cinesi cinesi farete la fine cinesi fallite devi devi imparare a parlare meno perché anche perché i tuoi amici amici stanno per essere radiati radiazione speriamo capito quindi non parlare troppo non devi parlare troppo cioè a un giorno dal derby li senti parlare di cambio allenatore questi qua sono dei geni che cime che cime chissà che cosa dice nino juventus c'è caccio di roppe hai capito